Allora guardi direttore intanto le voglio esprimere la mia solidarietà perché so che per aver pubblicato questa mail che era stata inviata da un magistrato a 500 persone qualcuno ha presentato un esposto anche questo fa un po' specie no? Fa un po' specie che gli stessi che sostengono che sia perfettamente giusto e lecito infiltrarsi nei partiti politici per fare delle presunte inchieste con il taglie e cuci e che dicono che è perfettamente normale che le chat private delle persone vengano pubblicate sui giornali se poi viene pubblicata una mail che è stata mandata a 500 persone allora si chiede l'intervento del tribunale. Anche questo è l'utilizzo dei due pesi e delle due misure dei quali parlavamo poc'anzi che secondo me ha messo oggettivamente in difficoltà la diciamo così onestà intellettuale di alcune personalità. Dopodiché sulla questione guardi io non parlerei di complotto voglio dirlo anche perché le poche volte che leggo i giornali leggo sempre di questa Giorgia Meloni complottista non ho mai parlato di complotti addirittura c'è gente che fa le interviste per dire non l'ho fatto io il complotto che fa un po' sorridere poi ho capito che le fanno soprattutto per far credere che contano qualcosa per me sono tutte dinamiche abbastanza bizzarre non credo che ci sia un disegno di sovvertire la volontà popolare credo che ci sia da parte di alcuni un sostanziale menefreghismo rispetto alla volontà popolare cioè come a dire se il popolo vota bene e vota come noi crediamo che debba votare allora la democrazia è una grande risorsa ma se il popolo non capisce e non vota come dovrebbe votare allora andranno corrette in qualche maniera le scelte del popolo sulla mail del magistrato guardi io l'ho pubblicata perché dice due cose vere ho pubblicato questa frase perché dice due cose vere dice che io non agisco per interesse personale ma per visione politica lo confermo dice che questo è un problema dice che questo è un problema ma io lo so è quello che ho detto in questi anni cioè ritengo che in questa nazione una politica forte una politica che non ha scheletri nell'armadio una politica che non ha una seconda agenda che non è condizionata da interessi personali e che quindi diciamo così non è condizionabile è un problema per molti è un problema per tutti quelli che sulla debolezza della politica hanno costruito degli imperi quindi ne sono consapevole l'ho detto da tempo ma credo che il ruolo della politica sia esattamente quello che io sto cercando di esercitare e cioè rispondere nel rispetto delle regole alla volontà popolare e diciamo non farmi condizionare da nessuno rispetto a quello che io ritengo sia giusto nel rispetto delle regole per dare risposta ai cittadini quindi sono tutte cose che io conoscevo già non mi spaventano dovrebbero fare riflettere e dovrebbero fare riflettere molti ma penso che siano una buona notizia per i cittadini che governo sapere che c'è una persona che non si fa condizionare perché non ha scheletri nell'armadio e non rincorre interessi personali ma gli interessi dei cittadini secondo quella che è la sua visione. Credo che la politica questo debba fare.